Benedetta Parretta, sorella della vittima e presidente dell'Associazione ad un passo da te, Giuseppe Parretta, in una nota stampa denuncia un ulteriore segno di prepotenze e abuso di squalli da presunzione, quello lasciato ieri sulla panchina dedicata a Giuseppe presso il luogo dove è stato ucciso il 13 gennaio 2018. È difficile continuare a rivivere quella scena, scrive Benedetta, e tornare in quel luogo per tenere alto il nome e l'onore di mio fratello attraverso la lotta per la legalità. Vederlo lì disteso mentre moriva ha lasciato in me un dolore incolmabile e continuare ad assistere a questi sfreggi dopo aver dovuto sopportare di vedere la faccia dell'assassino per due anni nelle aule di tribunale è straziante. Sono indignata, scrive ancora Benedetta Parretta, perché oltre ad aver strappato i sogni a Giuseppe continuano ad intimorirci. Nonostante si organizzino continue iniziative per la battaglia della legalità in questi mesi, come quella del procuratore Gratteri e i progetti presentati dall'Associazione ad un passo da te, bisogna fare un cambiamento culturale partendo dalle nuove generazioni. Ma ancora oggi, a distanza di due anni, non possiamo accertarci di chi continua a dare fastidio per la mancanza delle telecamere e della sicurezza. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e noi ci rivolgiamo alle istituzioni che dovrebbero dare sicurezza, che in questo momento sembrano essere impegnate e non avere tempo per incontrare libere donne e ad un passo da te, che continuano con coraggio a denunciare.